Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Oggi facciamo una potatura di allevamento a vaso policonico su questa pianta qui, varietà cima di Melfi. Al momento questa pianta è stata posta a dimora all'incirca due anni e mezzo fa. Come possiamo vedere adesso siamo quasi alla fine della stagione invernale, quindi si avvicina il periodo della potatura. Come possiamo vedere su questa pianta, questa pianta non è mai stata potata al momento e l'operazione di potatura riguarda fondamentalmente l'impalcatura. Adesso stiamo per dare le prime branche richieste dalla forma di allevamento a vaso policonico. Quindi le prime branche si trovano qui, quindi faremo un taglio esattamente qui in corrispondenza di questi due rametti che diventeranno nel corso del tempo le nostre future branche. Bene, adesso procediamo con il taglio. Per il momento, per quello che possiamo facilmente vedere, tutti questi rami al momento molto laterali non rappresentano un problema perché sono comunque abbastanza orizzontali e adesso l'unica cosa che ci resta a fare è aspettare la risposta vegetativa ed eventualmente produttiva di questa pianta e capire nel corso degli anni eventualmente quali altre operazioni fare. Ragazzi, come sempre, vi ringrazio infinitamente per l'attenzione. Se avete delle domande o dei commenti, fateli qui sotto. Se il video vi è stato di interesse, vi chiedo di supportarmi con un bel mi piace. Se volete continuare a rimanere aggiornati su questi argomenti, iscrivetevi al canale. Per oggi è tutto e ci vediamo nel prossimo video. Ciao!